un giovane domandò ad un saggio quanti tipi di amici esistono quattro rispose il saggio ci sono amici che sono come il cibo hai bisogno di loro giornalmente altri come le medicine li cerchi solo quando stai male poi ci sono amici che sono un po come le malattie e sono loro che ti trovano infine come ultimo tipo ci sono amici che sono come l'aria non si vedono però sono sempre con te dai valore ai tuoi amici di sapere che apprezzi quello che loro fanno per te